Sento anche la posizione di tanti cattolici, quelli che mi contattano, che dicono ma insomma queste cose vanno affrontate, la polvere sotto i tappeti non ci fa del bene, e poi la distinzione che fanno, però lo chiedo a voi, è una distinzione precisa, dicono queste cose con la nostra fede, non c'entrano, la nostra è una fede nei confronti della chiesa e del nostro pastore, questo dicono le umane debolezze di cardinali, le cattiverie, tutto quello che vogliamo, non va a toccare la nostra fede, e questo scusatemi ve lo dico e l'ho già detto ma per me è un punto fermo, né io ho fatto un libro per mirare in un'opera di spionaggio internazionale per mirare e attentare alla fede di chi legge questo libro, perché non è il mio ruolo.